buona giornata amici di fano tv bentornati alla rassegna stampa iniziamo la settimana leggendo i giornali dando un'occhiata a quello che hanno pubblicato il Corriere Adriatico e il resto del Carlino con cronaca locale per quanto riguarda i fatti della giornata di ieri e inizieremo dallo sport ma intanto passiamo per l'almanacco del giorno e vediamo il santo non è un santo così un santo particolare ma un qualcosa di più elevato infatti oggi si festeggia la beata Maria Vergine di Guadalupe è la festa più celebrata in Messico in ricordo di un'apparizione che ebbe un indigeno azzeco nel 1531 nel cui mantello apparse l'effigie di Maria e questo mantello è ancora oggi conservato in un santuario molto molto affollato di fedeli ed oggetto di grande di grande venerazione beata Maria Vergine di Guadalupe passiamo anche alle previsioni del tempo questa è un'effigie della Madonna così come è stata così rappresentata dal mantello miracoloso appunto dell'Asteco dicevo veniamo alle previsioni del tempo ancora oggi un tempo perturbato nella nostra regione nubi irregolari e residui piovaschi tra notte e mattino sulle alte marche asciutto altrove clima freddo la temperatura è calata sensibilmente tant'è che la minima ha raggiunto i 3 gradi la massima agli 8 quindi è stato un calo veramente decisivo i venti ispireranno moderati da nord e nord est e sulle coste da ovest nord ovest le temperature come dicevo sono in calo il mare è mosso ed ora passiamo invece alle notizie dopo aver detto però che il sole sorgerà alle 7 e 31 e tramonterà alle 16 e 29 oggi cominciamo dallo sport cominciamo dallo sport per dare un'occhiata a quello che è accaduto per le squadre di calcio comunque passiamo dalla vis visse l'attacco non punge è ancora così in crisi la squadra bianco rossa solo 9 gol in campionato 7 e li ha compiuti fedato stiamo dando tutto usciremo da questo periodo è la promessa appunto dei giocatori dopo 11 giornate i pesaresi sono in zona play out una zona pericolosa sabato prossimo alle 14 e 30 ci sarà una trasferta contro la carrarese però c'è un problema pesaro ed è quello della situazione precaria dello stadio benelli il manto erboso è uno spettacolo indecente intitola oggi il corriere adriatico poi la notizia verrà ripresa dal resto del carlino fango e pozzanghere non è accettabile un simile terreno di gioco e vediamo qui quando un giocatore scivola sul terreno che alza questa piccola nuvola di acqua di polvere di terriccio insomma una situazione molto difficile che rende ancora più difficile lo sforzo dei giocatori giriamo pagina e vediamo la visse la visse che fa un punto ma è un punto amaro contro la cinzia al balonga uno a uno è il risultato dopo diverse occasioni da rete il granata drolet rompe l'equilibrio andando in gol al quindicesimo della ripresa un super tommassino para un rigore e compie altri importanti interventi ma poi si deve arrendere ebbene il commento del tecnico prima o poi ci girerà bene ha detto Mosconi rammaricato del risultato della mancata vittoria ovviamente il loro gol nasce da due errate decisioni arbitrali ha dichiarato abbiamo meno punti di quelli che meritiamo ma sono convinto che i valori emergeranno invece per quanto riguarda il resto del Carlino vediamo che c'è un rammarico per quanto riguarda le decisioni arbitrali Fano un pieno di rabbia arbitro assediato dai tifosi avanti con drolet poi un rigore di dubbio un rigore dubbio parato dal diciassettenne Tommassino è l'uno l'uno in offside direttore di gara via dal Mancini scortato dalla polizia ha dovuto restare un'ora all'interno degli spogliatoi l'arbitro per così riuscire a placare i tifosi poi se n'è andato scortato dalla polizia è abitante, è un residente di Muffalcone quindi poi ha preso la via di casa senza incidenti Mosconi, due errori decisivi contro di noi drolet, giorni difficili per mio figlio gol dedicato a lui ha dichiarato l'attaccante che ha realizzato questo pareggio un pareggio comunque importante passiamo un po' alle altre squadre vediamo quello che è accaduto al Montecchio eccola qua che allunga con tre gol all'Urbania doppietta di Peluso e gol di Rossi siamo nella promozione A vano il tentativo di rimonta dei Durantini risultato Montecchio 3, Urbania 2 invece un colpo Gabicci e Gradara i portuali affondano Gabicci e Gradara 2 portuali Ancona 0 i Dockers si arrendono all'1-2 dei locali dopo un bel primo tempo insomma questi sono un po' i risultati del campionato di calcio che si è svolto nella giornata di ieri ed ora passiamo alle notizie apriamo il Corriere Adriatico sulla pagina di Fano e vediamo come l'attenzione si punta sulla situazione del Sant'Arcangelo il Sant'Arcangelo è un palazzo che sorge in pieno Corso Matteotti la via principale del centro storico di Fano ebbene qui c'è un cantiere un cantiere fermo da 6-7 mesi perché? che cosa è accaduto? è accaduto che nel concedere i lavori la ditta che è arrivata seconda ha fatto ricorso alla decisione della commissione che ha aggiudicato i lavori a una sua concorrente vediamo quali sono le due ditte in lizza sono la ditta Pensi che è la capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese e poi abbiamo la ditta Fratelli Navarra la commissione del comune ha aggiudicato dapprima i lavori alla ditta Pensi e alle sue consociate mentre la Navarra è giunta seconda che cosa è accaduto poi? che la Navarra ha fatto ricorso al TAR aducendo le proprie regioni per una valutazione secondo lei errata da parte della commissione e il TAR le ha dato ragione ma a questo punto i lavori si sono bloccati ancora una volta perché la Pensi ha fatto ricorso al Consiglio di Stato il Consiglio di Stato non ha deciso subito che cosa ha fatto ha rimandato la decisione della sentenza di merito al 15 dicembre cioè a giovedì prossimo ebbene in quel giorno finalmente si dovrà sapere chi potrà compiere i lavori della trasformazione di Palazzo Sant'Arcangelo in Museo del Carnevale e nella Casa della Musica un progetto importante un progetto che porta una firma illustre quella di Italo Rota e quindi dovrebbe qualificare la città per sei mesi comunque il centro storico è stato un po' deteriorato come immagine per quanto riguarda questo cantiere lo vedete qui nella fotografia che è rimasto bloccato per tanti mesi appunto in corso in pieno corso cittadino speriamo quindi che la risoluzione che il Consiglio di Stato darà giovedì prossimo possa da subito attivare i cantieri c'è anche una dichiarazione sul giornale di Stefano Marchegiani che è il consigliere comunale delegato dal Sindaco di seguire la vicenda del progetto Iti in cui rientra appunto il Sant'Arcangelo un auspicio che vede questo palazzo risorgere con una nuova funzione e anche una nuova immagine un'uova forza di attrazione in centro storico a Fano ora diamo invece la notizia di cronaca l'auto si ribalta donna muore nello schianto è accaduto a Belforte a Lisauro forse per la strada scivolosa ma non si esclude un malore la vittima aveva 87 anni stava percorrendo da sola la frazione Viano in direzione Belforte a Lisauro quando forse a causa del fondo stradale scivoloso è uscita di strada però è probabile ci saranno anche poi adesso le verifiche che sia stata accolta da un malore comunque l'incidente si è verificato all'altezza di un bivio e quando sono arrivati i soccorsi per la donna non c'era nient'altro non c'era niente da fare e qua invece abbiamo una denuncia una denuncia che parte da un caso personale ma poi si riflette un po' nella situazione di tanti di tanti fanesi si parla delle bollette del gas ebbene per limitare l'importo delle bollette generalmente le aziende fornitrici invitano gli utenti a controllare i consumi cioè a notificare a fare l'autolettura dei contatori e quindi di notificare i dati al fornitore stesso qualche volta però ci si dimentica e allora cosa fa il fornitore il fanatore fa un'ipotesi valuta un po' i consumi secondo dei calcoli che si partono dai consumi precedenti ma poi vengono fatti secondo un'alchimia che ancora non si è capita come viene effettuata e può accadere quello che è accaduto a Sergio Schiaroli il quale non sta zitto perché Sergio Schiaroli è stato uno dei più diciamo così i più decisi le più importanti segretari provinciali della Federconsumatori e quindi è abituato a difendere le tesi degli utenti può capitare che i consumi valutati dalle aziende quando non si fa l'autolettura siano molto superiori al dovuto per esempio in questo caso di fronte ad un consumo di 81 metri quadri che è stato fatto l'anno precedente nello stesso periodo questa volta si è calcolato l'importo della bolletta su 190 metri cubi veramente una cifra spropositata rispetto a quello che si è consumato l'anno precedente e quindi anche l'importo l'importo aumenta moltissimo anche perché poi gli importi sono aumentati come unità di valutazione e pensate questo che cosa comporta per una famiglia che magari si trova in difficoltà per precedenti situazioni perdita di lavoro aumento delle spese quelle che non si riesce ad arrivare alla fine del mese dunque è una situazione da riconvertire da rimodulare in modo che si preservino almeno le fasce più deboli grazie appunto a questa denuncia di Sergio Schiaroli vediamo poi le altre notizie vediamo che qui nella fotonotizia si annunciano i funerali di Enrico Frattini il volontario della protezione civile che è deceduto in seguito ad un incidente stradale che si è verificato a Fano la vigilia della consegna di un premio che avrebbe reso merito all'impegno di Frattini nella protezione civile un uomo che è stato sempre al servizio degli altri con il sorriso in fronte ed un impegno al quale non si è mai ritirato non è mai venuto meno ebbene i funerali domani alle nove nella chiesa di San Giuseppe al Porto e credo che ci sarà tanta tanta gente andiamo a Cagli andiamo a Cagli e vediamo storie di acque e di uomini in grado di tornare dal buio a Cagli si è svolta una iniziativa particolare un'iniziativa che ha attirato 1600 speologi provenienti da tutta Italia i quali hanno riempito la città da mercoledì a domenica per il raduno nazionale sul titolo Risorgenze storie di acque e uomini tornati dal buio in collaborazione con il comune di Cagli e la federazione speralogica marchigiana ebbene sono gli amanti delle grotte quelli che vanno a ispezionare le cavità sotterranee e spesso fanno delle scoperte molto molto interessanti e qua vediamo alcuni di loro alcuni dei 1600 speleologi che si sono riuniti a Cagli parlando appunto dei loro problemi delle loro aspettative e dei loro desideri un articolo di cronaca che si è verificato a Mondolfo ladri sul terrazzo messi in fuga dal vicino rumori sospetti l'uomo vede due persone e si mette a gridare queste fuggono alla chetichella hanno tentato un furto sabato sera poco prima delle 20 in via Occorsio alla periferia di Mondolfo nella frazione di Centocroci in un quartiere residenziale pieno di famiglie ebbene a raccontare i fatti è un'inquilina che abita lungo la strada che ha subito danni alla finestra e soprattutto deve ringraziare il padre che abita al piano di sopra ebbene l'allarme è stato lanciato poi anche sui social e quindi tutta la zona sta allerta perché poi queste cose magari si ripetano nel corso del tempo giriamo ancora alla pagina siamo a Senigallia dove ancora si soffrono i danni dell'alluvione non tutto il territorio è stato sistemato e può accadere che una strada sia ancora chiusa e l'ambulanza che deve raggiungere un'abitazione per prestare soccorso trovando la strada chiusa si perda nel territorio circostante disastro alluvione viabilità ad ostacoli l'ambulanza per mio padre si è persa un imprenditore di Castelleone l'ho guidata al telefono collegamenti rebus nella vallata dunque una strada chiusa a causa dell'alluvione e l'ambulanza si perde cercando l'alternativa dice l'articolo vediamo è stato l'uomo che l'aveva chiamata per il padre malato a fargli da navigatore indicandogli dove passare è caduto a Castelleone di Suasa incontrata a Farneto a raccontare l'accaduto all'imprenditore balneare Maurizio Tamenghi titolare di uno stabilimento a Senigallia che nei mesi invernali torna ad abitare nel suo paese natio ebbene ormai i guidatori l'uomini al volante delle ambulanze sono spesso costretti a passare in strade pieni di buche di strade più lunghe scomode che poi mettono anche a rischio i malati che vengono trasportati perché questi con i sobbalzi certo non stanno bene e poi vediamo che a Senigallia le fontane danzanti questo bellissimo spettacolo annunciato per i giorni scorsi sono state rinviate al 7 gennaio ci sono anche qui per il maltempo ovviamente quel giorno c'è stata pioggia e quindi le fontane danzanti non si sono accese però ci sono anche delle polemiche perché dice rinviare il 7 gennaio quando ormai le feste sono terminate ha poco senso comunque lo spettacolo è sempre uno spettacolo a Senigallia ed ora vediamo qualcosa sulla regione anzi su Pesaro passiamo per Pesaro e vediamo come si parli dei giochi d'acqua di Caprile questa bellissima villa che è stata realizzata come abitazione di campagna per passare le ferie dalla famiglia Mosca il palazzo Mosca a Pesaro è uno dei palazzi nobiliari sede di una delle famiglie nobili più nobili della città un palazzo meraviglioso dove poi è stato istituito il museo civico della città ebbene Caprile i giochi d'acqua rischio con il recupero la provincia ci chiami che cosa accade accade che che si ed è Italia Nostra proprio Italia Nostra che interviene con Federica Tesini la quale dice va bene c'è un intervento un intervento anche cospicuo perché si parla di due milioni dei fondi del PNRR per così intervenire rimettere a posto un po' le tubature dei giochi d'acqua di Villa Caprile ma questo sembra che venga affidato a dei operatori esterni invece Italia Nostra dice vogliamo esserci anche noi a dire la nostra perché questo è un territorio che noi curiamo costantemente e forse qualche decisione che viene da fuori potrebbe essere non proprio appropriata e quindi vogliamo intervenire anche noi è un progetto complesso quello che ci si appresta a realizzare a Villa Caprice a Villa Caprile gli ambientalisti chiedono un confronto l'intervento appunto è legato a due milioni di fondi del PNRR per i giardini all'italiana Villa Caprile risale al 1640 inizialmente concepita come residenza estiva con i celibri giardini all'italiana disposti su tre terrazze vedete qui questa bella foto panoramica di Villa Caprile con i giardini dove ci sono questi bellissimi giochi d'acqua e ormai non c'è persona nella nostra provincia che non abbia fatto una bella esperienza e non si sia divertita con questo bellissimo immobile si è aperto il cantiere in città che porta Pesaro capitale il concerto dal balcone della casa di Rossini ha inaugurato ieri sera la masterclass si è aperta ieri sera alle 19 con un concerto appunto in casa Rossini la masterclass finale di Cantiere Città questo è un progetto un progetto sperimentale di consolidamento delle competenze volto alla valorizzazione dei progetti culturali presenti nelle città finaliste di Capitale Italiana della Cultura si inizia con queste iniziative propedeutiche per poi adentrarsi veramente sui programmi di tutti gli spettacoli che verranno realizzati per l'occasione ed ora parliamo di un aspetto di sanità un aspetto di sanità che merita molta attenzione covid più positivi e i focolai resistono ma il trend si vedrà solo dopo il ponte sotto controllo i contagi nelle strutture sociosanitarie preoccupa la recrudescenza dell'influenza ebbene dobbiamo affrontare un mix tra il virus dell'influenza e il virus del covid quello della pandemia attenzione perché è un mix veramente preoccupante e le persone affette dall'uno o dall'altro virus sono in aumento e quindi i medici non fanno altro che insistere nel consigliare l'uso della mascherina sia all'aperto che al chiuso quando ci sei quando siamo di fronte oppure all'interno di un grande assembramento quando ci sono molte persone non dismettiamo di prendere le precauzioni anche se ormai l'ossessione l'incubo della pandemia si è un po' attenuato in realtà questo virus ancora circola tra di noi ci sono casi di persone che vengono che sono ammalate che quindi devono poi subire tutti gli effetti di questa malattia che qualche volta diventa anche molto preoccupante magari meno del passato ma è ancora preoccupante capolavori fatti d'ago e filo nel museo dell'allure retro e siamo a Monbaroccio a Monbaroccio la raccolta permanente è dedicata a ricamo pizzi e merlette un piccolo museo con documentazione storica di un'arte che affonda i suoi saperi nel Que Trecento è il museo del ricamo a Monbaroccio quasi una istituzione la bottega al femminile che tramanda tecniche artigianali antiche e moderne con ago filo e uncinetto pizzi merletti chiacchierini che per i profani non sono persone che parlano troppo ma un tipo di filato intrecciato con anelli nodi e catene dimostrano la perizia l'intraprendenza la fantasia ma anche la tecnica che hanno le donne che fanno questa pratica e qualche volta si trova anche qualche uomo che usa appunto l'uncinetto e che fa anche lui dei centrini veramente belli e interessanti innamoratevi di Pesaro grazie al calendario siamo ormai vicini alla fine dell'anno e i calendari con le belle immagini magari della città o di aspetti particolari insomma promuovono le bellezze del nostro territorio e siamo qui alla fine per quanto riguarda il corriere adriatico vediamo ora il resto del Carlino dove purtroppo sulla pagina di Fano troviamo una tragedia un dramma tragedia in centro storico a Fano sedicenne trovato in casa senza vita la scoperta è stata fatta dai familiari ha lasciato scritto qualcosa sul posto è intervenuto il commissariato si tratta secondo quando accertato sempre ieri di un gesto volontario si tratterebbe di un gesto volontario purtroppo il ragazzo si è tolta la vita la tragedia è accaduta nel tardo pomeriggio di ieri in una via del centro storico a Fano un ragazzino di 16 anni fanese è stato trovato senza vita all'interno della sua abitazione vicino a una finestra la scoperta è stata fatta da alcuni familiari intorno alle 19 di ieri e sul posto indagano gli agenti del commissariato che stanno cercando di ricostruire il fatto identificare le cause cause che probabilmente si riferiscono così come accade quando cadono queste cose a un ragazzo di questa età nella sua sfera dei suoi rapporti con gli amici la scuola i rapporti familiari insomma è tutto un mondo che purtroppo qualche volta si deteriora e spinge questi ragazzi a prendere queste brutte decisioni freddo e muffa la rabbia di un'anziana al geno si ritorna ancora sul caso di via Marche a Fano dove chi non paga mette in difficoltà chi non paga il gas mette in difficoltà anche chi lo paga e qui c'è un'anziana che purtroppo è costretta a restare al gelo perché l'azienda fornitrice del gas ha chiuso i rubinetti e l'Erap non paga insomma l'Erap non paga ovviamente perché le bollette sono a carico degli inquilini Candela a Candelara chiude col botto 25.000 presenze in 6 giorni veramente un risultato eccezionale per questo piccolo paese dell'entroterra che vive in una maniera diciamo così mondiale perché vengono un po' da tutti i continenti a vedere Candela a Candelara è veramente una iniziativa di grande di grande attrazione ultimo giorno ieri per la manifestazione che ha illuminato il borgo gli organizzatori abbiamo fatto centro un'altra volta e lo dicono con grande soddisfazione carristi piove nei cantieri adesso parliamo anche di carnevale perché nei cantieri del carnevale di Fano si lavora lacrimente per la manifestazione che dovrebbe debutare il 5 febbraio prossimo Fano su Facebook lo sfogo lo sfogo di un'associazione l'assessora Brunori subito un sopralluogo ebbene acqua a catinelle nella fabbrica del carnevale di Fano ha piovuto intensamente e questi cantieri che sono piuttosto non dico nuovi perché sono mai anni e anni che sono in attività però insomma sono una bella struttura e che piova insomma ad esta qualche perplessità ebbene comunque sembra che intervenga anche la presidente dell'ente carnevalesca Maria Flora Gianmarioli che ha ascoltato impotente le lamentele dei carristi costretti a lavorare in un cantiere in cui dopo ogni acquazzone si deve careggiare i fusti pieni d'acqua messi per così prendere le gocce che le gocce insomma i rivoli d'acqua che piovono dal soffitto e anche questo è una cosa da mettere a posto siamo ormai in conclusione voglio notificarli e invece una notizia che appare in prima pagina nel Carlino Marche lo stadio ricci promette rifaremo il campo a disposizione 900.000 euro per la sistemazione sarà demolita la vecchia tribuna Prato spazio per i tifosi e poi dobbiamo anche rilevare il tripudio dei marocchini e anche nel nostro territorio i marocchini residenti hanno esultato per la vittoria della loro squadra ai mondiali di calcio e per c'è una grande aspettativa per il confronto con la Francia che costituirà una bella semifinale in programma per mercoledì prossimo e anche noi saremo davanti agli schermi e questo per il momento è tutto per la rassegna stampa di oggi io vi saluto e vi invito a seguire per le notizie del giorno il Tg occhio alla notizia delle ore 20 e 30 di questa sera e domani ci ritorneremo per una nuova rassegna stampa grazie per l'ascolto a risentirci grazie per la notizia